E adesso andiamo a Taranto perché dopo 40 giorni di degenza nell'ospedale Moscati un cittadino francese colpito da coronavirus è guarito. La difficoltà della degenza dovuta all'impossibilità di capire la lingua ma nonostante tutto medici, infermieri, operatori, sanitari sono diventati la sua famiglia. Sentite. Grazie di cuore per avermi salvato la vita. Troverò la mia famiglia grazie a tutti voi e grazie per la vostra gentilezza. Arrivederci. E' il messaggio che ha scritto mescolando l'italiano al francese e sua lingua madre per dire grazie al personale sanitario dell'ospedale Moscati di Taranto che per 40 giorni è stato la sua famiglia. A scriverlo un cittadino francese dipendente di un'azienda di trasporti internazionali che è stata colpita dal coronavirus e ora è in viaggio verso casa perché è riuscito a sconfiggere l'infezione. Emozionato, commosso, ha salutato lo staff medico che lo ha sostenuto nel corso della degenza. Le sue condizioni erano molto critiche al suo arrivo a fine marzo e la lontananza dei familiari a volte ha reso complicata la gestione del suo ricovero. A dargli coraggio sono stati gli operatori sanitari che lo hanno assistito. Abbiamo ricevuto quotidianamente da parte sua segni di gratitudine per l'affetto che sono riusciti a dare i medici, gli infermieri del reparto e tutto il personale. Certo non è possibile sostituire completamente gli affetti familiari a cui è stato sottratto il paziente, però nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare quel conforto e quell'umanità che oltre a guarire la malattia si può anche guarire lo spirito. L'infezione da Covid-19 è estremamente debilitante, toglie energia e comporta la convivenza con una debolezza estrema che sfianca anche l'anima. Ha trovato più difficoltà rispetto agli altri, povera stella, perché ovviamente oltre a tutti i problemi di isolamento eccetera eccetera c'era anche il problema della lingua. Lui ha avuto molta pazienza nei nostri confronti, devo dire, e anche noi un pochettino nei confronti suoi siamo riusciti a intenderci più che altro con gli sguardi e ad avere anche un rapporto di amicizia, come può vedere, bellissimo. È stata un'esperienza fantastica. Lui pian piano, pian piano, ce n'è voluto tempo ma è uscito fuori da questa situazione e noi siamo felicissimi di poterlo portare e farlo ritornare a casa sempre per i suoi cari. L'ex paziente Covid ora può tornare a casa ma porterà sempre nel cuore i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che lo hanno accompagnato nel corso della battaglia contro il coronavirus che è riuscito a vincere. Io ti ringrazio di fondo del cuore e io potrei poterlo, grazie a voi tutta la mia famiglia, io ti ringrazio di fondo del cuore.